Come fai ad acquistare bitcoin, ethereum, litecoin o altre criptovalute senza pagare le commissioni? Questa è la domanda che mi hanno fatto in tanti e ti illustro il metodo che ho trovato. Magari già lo conoscerai, ma lasciami un commento sotto per farmi capire se ti è stato utile, se già lo conoscevi e soprattutto che cosa ne pensi. Ti faccio vedere subito. Altcoin Investor69 Devi avere un account con Coinbase, ma sta bene attento, non devi acquistare da Coinbase, devi solo trasferirci i soldi. Se non hai un account Coinbase, utilizzi il link che ti metto qua sotto, che è un link di invito che ti permette di ricevere 10 euro o 10 dollari bonus al tuo primo acquisto di almeno 100 euro, 100 dollari, o alla tua prima vendita di bitcoin di 100 euro, 100 dollari. Quindi utilizzi il link sotto per Coinbase. Ora però non vai su acquista e vendi bitcoin su Coinbase. Perché? Perché se compri da qui, ad esempio, metti che vogliamo comprare 2000 euro di bitcoin, che corrispondono adesso a circa 0.17 bitcoin. Come vedi le commissioni sono 31 euro. Beh, te dirai, bando all'avarizia su 2100 euro, 31 euro di commissioni non è male. Ma c'è un metodo per eliminare queste fastidiose commissioni che si prende Coinbase. Anche perché, metti che te stai per prendere 100 euro di bitcoin, eccoli qua. Come vedi devi pagare 3 euro di commissioni. Come fai a eliminare questi 3 euro di commissioni e a prendere anche i 10 euro bonus? Devi andare, quindi trasferisci i tuoi soldi su Coinbase e fai riferimento ai tutorial che già ho pubblicato su Altcoin Investor 69, il canale dove tratto tutto questo. Trasferisci questi 100 euro su Coinbase e aspetta a fare il tuo acquisto. Ma utilizza GDAX. Che cos'è GDAX? GDAX è la piattaforma di trading di Coinbase. Quindi da qua puoi fare trading. Non ti spaventare perché è semplicissimo, ti faccio vedere come fare. Innanzitutto vai su gdax.com e clicca su sign in. Automaticamente ti dovrà prendere il tuo account Coinbase. Se non lo prende, non devi fare altro che utilizzare il tuo nome utente e la tua password che utilizzi su Coinbase. E quindi fai login. Coinbase non ti far fregare da quello che ha fregato a me all'inizio perché lui si apre di default, essendo un sito americano della Silicon Valley di San Francisco, California, ti si apre sul trading tra Bitcoin e US Dollar, vedi? Tra Bitcoin e Dollar. Vedi? Come puoi vedere, a me mi ha bloccato all'inizio, mi ha tratto in inganno, ti dice view only, ovvero guarda che il trading questo qua tra Bitcoin e Dollar può essere fatto, non è disponibile nella tua regione, cioè in questo caso in Italia. Ma vai su Bitcoin, Euro, eccolo qua. Come vedi? Come vedi adesso abbiamo 0 Euro e 0 Bitcoin, ma possiamo fare un deposito. Automaticamente, come vedi, qua metti i tuoi dati per depositare fondi, ovvero per fare un bonifico direttamente su gdax, ma fallo su Coinbase così prendi i 10 Euro Bonds. Oppure puoi utilizzare il tuo Coinbase account, eccolo qua, e in automatico ti rileva gli stessi soldi che hai nel tuo portafoglio Coinbase. Vedi? Sono gli stessi. Quindi non facciamo altro che attingere ai nostri fondi Coinbase da gdax. Bene, possiamo magari depositare, facciamo conto paro, depositiamo 124,77 euro, clicca su deposit funds. Ok, hai con successo depositato 124,77 euro. Come vedi le commissioni, vedi, sono pari a 0. Qui abbiamo 124,77 euro su gdax. Di qua in Coinbase, se aggiorniamo, dovremmo avere 2000 euro precisi. Eccoli qua, vedi? Non c'è preso niente di commissioni. A questo punto stai ben attento, perché sta qui il trucco, ovvero il piccolo clic per non farti prendere le commissioni. Perché noi potremmo comprare, adesso stiamo facendo trading su Bitcoin Euro, andiamo su Ethereum, ad esempio, Euro, che mi piace di più, perché per trasferire Ethereum ci sono ancora meno commissioni di rete rispetto a Bitcoin. Ok, adesso non andare su Market Buy, perché se qui adesso 3 compreresti 124,77 euro di Ethereum, ti prende le commissioni, ma vai su Limit Buy, ovvero adesso l'Ethereum, come vedi, sta a 734,08 euro. Quindi cosa devi fare? Puoi anche dire, scommettere, tra virgolette, quindi fare trading, come vedi, questa è la candela a 15 minuti, che te comprerai Ethereum non a 738 euro, ma ad esempio a 737 euro. Perfetto. Anzi, facciamo meglio ancora, perché nel frattempo, come vedi, c'è una candela negativa ed è arrivato a 732,48 euro. Quindi possiamo mettere che lo compriamo a 733 euro, lo scommettiamo a rialzo, 733 euro, ci prendiamo 0.17 Ethereum, e facciamo 0.15, ad esempio, per fare una prova. Ok, che cosa significa Good Till Concealed? È buono l'ordine finché te non lo cancelli, quindi se te piazzi questo ordine, ok, best order buy, vedi, stiamo piazzando 109 euro di Ethereum e scommettiamo che l'Ethereum stia a 733 euro, leggermente più alto della sua quotazione attuale, perché magari abbiamo fretta di comprarlo, ma potremmo anche fare 0.27, così ottimizziamo e ci prendiamo un po' più Ethereum. Best order buy, ok, l'ordine lo abbiamo piazzato, eccolo qua il nostro ordine, vedi, eccolo qua. Adesso, quando l'Ethereum raggiungerà 732.27, quando c'è qualcuno che vende dall'altra parte, noi avremo i nostri Ethereum senza aver pagato nessuna commissione. Ecco, l'ordine si è piazzato, come vedi, non abbiamo più 100 e passa euro, ma 14 euro di balance, e 0.15 Ethereum. Come è andato? Come è andata la cosa? Vai qua, in alto a destra, vedi, ci sta il menu, e andiamo su orders, cioè i nostri ordini. Eccolo qua, guarda che spettacolo, abbiamo comprato 0.15 Ethereum, ha il prezzo di 732.27, e come vedi, le commissioni fee, vedi, sono 0 euro, 0,00 euro assolutamente. Quindi non abbiamo pagato niente di commissioni. Se adesso vai nel tuo account Coinbase e aggiorni, e andiamo nel nostro account Ethereum, dove è Dashboard Conti, eccolo qua, nel nostro portafoglio Ethereum abbiamo ancora 0 Ethereum. Perché? Perché stanno qua nel nostro portafoglio InGDAX, che non è altro che il nostro account di trading collegato a Coinbase, ma non abbiamo pagato niente di commissione. Ora, come facciamo per ritirarli e trasferirli magari su un'altra piattaforma per comprare degli altcoin? Basta che clicchi Withdraw, eccolo qua, andiamo sul nostro Ethereum address, beh, innanzitutto andiamo sull'altra piattaforma, e io ti consiglio vivamente Binance, perché ti metto il link sotto d'invito, che ti permetterà di risparmiare il 50% sulle commissioni, su tutte le commissioni. E non è male, perché quando ho aperto io l'account mio Binance, purtroppo, sempre con questa maledetta fretta, non ho utilizzato nessun account di invito, come questo che ti sto mettendo gratuitamente a disposizione, e adesso pago il massimo delle commissioni. Infatti, pensavo di crearne un altro con un account di invito, in modo da ridurre del 50% le commissioni, di per sé ben basse, molto basse. Quindi, ti registri sul link che ti metto qua sotto di Binance, così risparmi il 50% di commissioni, vai su Ethereum, ok? Clicca su Deposita, questo è il mio indirizzo del portafoglio Ethereum di Binance, nel tuo caso avrai un altro indirizzo, e pagherai adesso zero per trasferire da GDAX a Binance. Poi però, quando comprerai degli altcoin, come ad esempio Cardano, Adas, Sterlar Lumens, Nav, ce ne sono tanti interessanti in questo preciso istante, in questo momento, ti pagherai il 50% di commissioni, che sono veramente di per sé già basse in Binance. Ed ecco fatto che hai ottimizzato al massimo i tuoi acquisti, perché sì, tanti fanno acquisti di 100.000 dollari, di 100.000 euro, 2.000 euro e tutto, ma anche i tuoi 100 euro iniziali, con cui anch'io sono partito qualche tempo fa, hanno valore, e non va bene ridurli di commissioni che puoi evitare. Quindi adesso che facciamo? Ti prendi il tuo indirizzo Ethereum per depositarli all'interno di Binance, andiamo su GDAX, clicchiamo Withdraw, che significa, se sarai andato all'estero, e Bancomat significa ritirare, quindi ritiriamo i nostri, dal nostro Ethereum address, i nostri 0.15 Ethereum, ok? Qui dobbiamo mettere l'indirizzo Ethereum di destinazione, e ce lo siamo copiati, che è quello di Binance, e ti consiglio di andartelo a controllare, verifica magari le ultime 5 cifre, che sono F4E580, vediamo se corrisponde, F4E580, per sicurezza verifica sempre i codici alfanumerici, e a questo punto, devi inserire il tuo authentication code, di Coinbase, vedi, non è che ce n'è un altro di GDAX, se hai problemi in questo caso, dimmelo perché ti aiuto, magari scrivimi un commento qua sotto, ti posso dare una mano, perché anche io all'inizio, ci capivo ben poco, nessuno nasce imparato, e a questo punto, clicchiamo Withdraw Funds, perfetto, abbiamo ritirato con successo, 0.15 Ethereum, quei 127 euro di Ethereum, e li stiamo trasferendo, sul nostro account Binance, e aggiorniamo, vediamo quanto ci prende di commissioni, guarda che spettacolo qua, ti vedi sulle tue transazioni in Coinbase, hai trasferito 0.15 Ethereum, circa 125 dollari, dal Coinbase Exchange, vedi, e adesso è ancora in attesa la rete di dare conferma, ma se clicchi, guarda le commissioni, le commissioni sono pari a 0, non è potente questa cosa? Diamo tempo alla rete di trasferire questi Ethereum, il coin Ethereum non è come i Bitcoin, che ci vuole quando ti va bene 15-20 minuti, quando ti va male anche un'ora e mezzo, un'ora e 40, quando la rete è congestionata, in questo caso la rete in genere non è congestionata, e quindi ci vogliono veramente pochissimi minuti, come vedi abbiamo adesso in G-Tax, 0 Ethereum, e i nostri 14 euro, che erano rimasti, e adesso dentro Binance dovremmo avere nel giro di 10, massimo 15 minuti, i nostri Ethereum, e abbiamo pagato finora 0 di commissione, eccoli qua, dopo neanche 5 minuti, dal click sono arrivati sani e salvi, i nostri 0.15 Ethereum, sul nostro portafoglio Binance, senza pagare neanche un centesimo di commissione, sono pari a 125 dollari, perché ci fa la conversione in Bitcoin, e sono pronti per fare training, o per conservare in attesa del momento giusto, fatto sta, te hai convertito euro in valuta digitale, Ethereum, e trasferito su Binance, passando da Coinbase per G-Tax, è un bel giro, ma ne vale la pena, perché non hai pagato neanche un centesimo di commissioni, potente no? E quando comprerai degli altcoin, ad esempio Cardano Ada, o quello che ti interessa, perché sono ottimi, te li consiglio, quando li andrai a comprare, pagherai con il link che ti metto sotto, il 50% di commissioni di per sé, già veramente bassa in Binance. Bene, che ne pensi? Fammi sapere sotto con un commento, perché ci tengo veramente tanto, fammi sapere se conoscevi già questo metodo, oppure se non lo conoscevi, fammi sapere come ti sei trovato, soprattutto iscriviti ad Altcoin Investor 69, che è il canale che sto gestendo da poco tempo, Powered by Videorepetizione, e Giumla Power, per altri progetti che ho portato avanti negli anni su internet, se ti va, iscriviti, clicca pure la campanellina, così non ti perderai i prossimi aggiornamenti. Nella descrizione di questo video, ti metto alcuni account referral, per prendere 10€ bonus in Coinbase, il 50% di sconto su Binance, e altri link, se ti va, Amazon, con prodotti e libri che consiglio, se vuoi aiutare questo canale a crescere. Se ti va, condividi questo video, ci vediamo sempre qua, su Altcoin Investor 69. Un saluto, ciao. Altcoin Investor 69.